Buongiorno da BTV News. Oggi, 11 marzo, è San Costantino. Oggi è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea, un giorno dedicato anche alle famiglie e agli amici delle vittime. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico di matrice islamica avvenuto a Madrid nel 2004. L'attentato causò la morte di 191 persone, tra le quali una donna incinta, e il ferimento di 2057. Oggi è anche la giornata nazionale del fegato la veneziana e la giornata internazionale del nut waffle, dolce a cialde di origine francese, cotto su doppie piastre roventi che gli conferiscono il tipico aspetto agrata. È popolare anche in Belgio, Paesi Bassi, Germania e Scandinavia. Tra i nati oggi annoveriamo Torquato Tasso, 1544, Sandra Milo, 1933, Astor Piazzolla, 1921, e Rupert Murdoch, 1931. Tra i scomparsi ricordiamo invece Alexander Fleming, 1955, ed Edmondo De Amicis, 1908.